Buongiorno a tutti e a tutti, io ringrazio moltissimo il direttore dell'Ufficio di Roma, il nostro Carlo Corazza e la direttrice facente funzione dell'Ufficio della Commissione Elena Grecci e naturalmente la città di Catania che ci ospita quest'anno in una bellissima cornice e per questo mi dispiace ancora di più non poter essere presente con voi ma ci tengo moltissimo a farvi avere un messaggio, un contributo ai vostri lavori anche perché come sapete tra le deleghe che mi ha segnato la Presidente Mezzola c'è quella della delega alla comunicazione istituzionale. Ci siamo lasciati lo scorso anno alla riunione nazionale di Ravenna alla vigilia di una campagna elettorale che ha indubbiamente impegnato tutti noi tutti noi in uno sforzo imponente al fine di coinvolgere il massimo numero di persone nell'andare a votare, nell'essere appunto attivisti per quanto possibile di quella campagna elettorale il nostro obiettivo principale era appunto parlare di Europa perché appunto le elezioni europee devono essere il momento più intenso il momento più decisivo nel quale discutere di chi Europa vogliamo e di come la vogliamo non solo per il presente ma soprattutto per il futuro del nostro continente poi è ovvio dinamiche politiche nazionali hanno in parte distolto l'attenzione da questo punto che è imprescindibile ma il nostro lavoro non si ferma certamente alla campagna elettorale e alla campagna di informazione che abbiamo svolto brillantemente ma deve proseguire in questa direzione negli anni che sono di fronte a noi con un obiettivo chiaro che dobbiamo avere già in mente le elezioni del 2029 questa legislatura entra nel vivo in questi giorni deve poter essere l'occasione di riforme profonde come ci stanno indicando i lavori di due grandi personalità italiane di cui siamo tutti e tutti fieri Mario Draghi ed Enrico Letta in questa legislatura come sempre il nostro lavoro è indispensabile per continuare a tenere un rapporto diretto con i territori con i cittadini e con le tante realtà che compongono la nostra diversa Unione Europea come dicevo noi siamo all'inizio di un quinquennio che si preannuncia davvero ricco di sfide globali che l'Europa sarà in grado di affrontare siamo in un periodo di grande fermento perché sapete bene che tra poche settimane tra pochi giorni inizieranno le edizioni i nuovi commissari un periodo che è uno di quelli più densi del nostro esercizio democratico all'interno dell'Unione Europea è anche in questa fase di scrutinio da parte del Parlamento verso i candidati commissari che saranno chiamati nei prossimi cinque anni a concretizzare le politiche e le priorità che ci siamo dati all'inizio di questa legislatura il vostro lavoro rimane importante per comunicare per coinvolgere le cittadine e cittadini in questo processo per spiegare loro l'importanza che le audizioni hanno nel dare concretezza agli obiettivi che ci siamo dati anche nel corso della campagna elettorale e allora chiudo questo breve saluto sottolineando ancora una volta l'importanza della partnership tra il Parlamento Europeo e la rete Europe Direct sui temi cruciali sul presente e sul futuro della nostra Unione informare i cittadini sul funzionamento dell'Unione Europea sulla nostra democrazia così sfidata nel corso di questi tempi stabilire solide relazioni con i media locali e agire da moltiplicatori di informazioni insomma portare l'Unione Europea dove deve essere tra i cittadini, tra le persone, tra gli studenti, nelle scuole per combattere la disinformazione che in questo tempo è così diffusa come sapete e allora io tengo particolarmente a questo punto perché nonostante la fase elettorale sia terminata noi dovremo continuare a prestare la massima attenzione per intercettare e per neutralizzare le fake news, le narrative sbagliate che vengono ancora prodotte sull'Europa e sul nostro lavoro e io vi chiedo di continuare in questo sforzo che è davvero preziosissimo in linea con quanto già facciamo in Parlamento con quanto già facciamo in Commissione in questa battaglia comune contro la disinformazione che è una battaglia per difendere l'essenza stessa della nostra democrazia abbiamo come vedete tanto tanto lavoro davanti e sono certa che si è affrontato con lo spirito ma anche con gli strumenti giusti noi riusciremo a dare insieme un servizio fondamentale alle cittadine e ai cittadini dell'Unione Europea dunque queste tre giorni di lavoro a Catania spero possa essere un'occasione per approfondire anche queste questioni enormi che abbiamo di fronte al nostro cammino e vi ringrazio come sempre moltissimo per il vostro lavoro che è davvero prezioso per tutti e tutti noi buon lavoro e in bocca al lupo a tutti e a tutti noi a presto